Sì, 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 sei un bot, sei un bot, vergognati, c'è! Vai, vai, gioca. Sto facendo una cosa importante, mamma. Mamma, sto battendo un bot. Attenzione, la mamma interviene, perché quando mi killa, gode come un maiale, regà. Bravo, belle. Tu hai meno 10 di ping, spari. Meno 10 di ping? Guarda, mi prende attraverso i muri. Vai! Mi dai il link delle hack. Ma che resto fa, sta intro, regà? Sto qua, è pazzo. Dovete assolutamente guardare questo video fino alla fine e lasciare un like da ora, perché ha promesso che se raggiungiamo le 10.000 like, facciamo la seconda parte del video dove vediamo in una pubblica chi è più forte. E se farà più kill di me, gli darò 100 euro. Dovete assolutamente guardare questo video, perché morirete da ridere. Signori, Instagram, Twitch e TikTok. Crazy Artino Bass Fett, per un po' di... Sì, sono trash. Buona visione. In questo video saluto NicoAli72 per aver trovato il Lama e Alessandro Acidelli per essersi abbonato. Abbonate anche tu se vuoi essere salutato oppure trova il Lama segreto che apparirà in un minuto di altro del video. Mi raccomando, scrivi il video d'altro qua sotto. Questo Burzo Gamer mi ha scritto su Instagram. E ha quello che noto anche nei direct. Burzo Gamer. Ehi, Roger Berler. Oh, invita, mi sbrigati, ti spacco in due, dai. Oh, ti vuoi sbrigare? Mi fai incazzare. Hai per caso paura? Hai paura, stupido bot? Sei proprio un bot finto youtuber. Ti vanti e basta. Ma, regà, su Instagram mi ha scritto, mi ha detto, voglio registrare un video con te. Io sono curioso di invitarlo adesso. Vai, l'ho invitato, l'ho invitato. L'ho invitato. Vediamo. Ciao bot. Perchè già bot? Ciao? Intanto, quanti anni hai? No, vorrei capire, quanti anni hai già? Sì, già bot. Già inizi. Del 2000. Del 2000. Ah, del 2000. Finalmente, raga, non abbiamo un BM. Finalmente, regà. La prima volta che non abbiamo un 2011 e il 12. Ok, allora, dimmi tutto. Perchè mi chiami bot? Mi insulti? Dimmi, cos'hai? Perchè credo che ti faccia veramente schifo. Ma proprio mi fai pena. E quindi che si usa? No, se sei 250k, te li sei comprati. Comprati, una cosa? Hai aspettato 44 ore per prima di invitarmi. Eh, vabbè, ho capito, ho capito, ho capito. Calma, ti hai calma. No, calma di niente. Mi stai già facendo incazzare. Metti pronto, ti smiccati. Scusami, scusami, scusami. Ok, ok. Dai, ora ti spacco in due, mamma mia. Quanto ti faccio male adesso. Dai, ma devi ancora caricare, ma quanto sei lento. Mamma mia. E sai come, no, non ho un pc come il tuo. Sei ricco tu? Non sono come te che ti compri, eh, che ti compri le visual dei tuoi bambini, dai tuoi bambini. Eh, intanto calma con le parole. Regà, questo è impazzito, regà. È impazzito totalmente. Al via, ti sbrighi. Regà, è impazzito. No, regà, lo vuoi, lo vuoi. Deve diventare il nuovo erbo. Eh, sì, sì, avvio, scusami, eh, che sono un po' lento. Dai, mamma mia, quanto sei letto. Vai, Burgio Gamer. Burgio, uno di noi. Uno di noi. È Burgio Gamer. Sfotti, sfotti, tra poco non riederai più. Edithas, dai. Oh, calmati. Allora, tre, due. Lo so che hai paura. Lo so che hai paura. Uno. Sei sotto. Come si sta lì sotto? Come si sta? Sai come fa un po' freddino. Da te invece Burgio. Burgio qualcosa. Ah, qua sopra si sta veramente bene. Sì. Tu li si pare questi edit. Sì, no, no, no. Non li so fare. Mica sono forte come te io. Opla. Amica, mi caso. Guarda, prima i tasti e cazzo la tastiera. Mamma mia che scassa. Come si sta lì sotto? Dimmi. No, no, era per farti... Ah, per farmi recuperare. Sì, sì, sì. No, per farmi... Sì. Uuuh. Mamma mia, Burgio. Ma ti faccio di no, scopo, sei troppo scarso. Il combat fa proprio schifo. Cioè, come la tua mappa, come i tuoi video. Tutto schifo. Sì, tutto schifo. Tutto quello che è mio fa schifo. Ancora non l'ho capito perché mi odi, eh. Dai, comunque, stai tranquillo. Cioè, c'è... Oh, Burgio Gamer. Burgio, mi stai facendo annoiare, sinceramente, eh. Ma come mi hai preso l'Aegra? Come mi hai preso l'Aegra? Sai com'è? No, non è che tutti possono essere però come te. Dai, che falla? Come mi hai preso? Che c'era il muro. No, c'era il muro, c'era. Sì, 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 il muro c'era. Burgio Gamer! Mamma mia, mamma mia. Mamma mia cosa? Fra, non è possibile. Come hai fatto a uccidermi? Che c'era la mia scala. No, no, no. Hai ragione. No, hai ragione, Burgio Gamer 2000. Quindi hai 19 anni. Ma sono persi questi 19 anni? Stai zitto, tu hai. Mi stai facendo dare il sacco a testa. Ma non ero bot, l'unico che hai vinto è la prima che ti ho regalato. Complimenti, eh. Complimenti. Bravo. Easy, easy, easy. Fai schifo. Fai schifo. Fai schifo. Faccio schifo, brodè. Tu non puoi capire come faccio schifo. Ma ti credi simpatico? Ti credi simpatico? No, no, mi credo crazy bad. No, no. Fai schifo. Fai schifo. Mi credo crazy bad. Mi credo crazy bad. Madonna, come rosi. Chi è? Stai rosicando? Stai rosicando? Easy, easy. Siamo a 4, 4 a 1. 4 a 1. Sicuramente, zio. Siamo proprio 4 a 1, eh. 4 a 1. Sta pure laggando. 11 di ping. Stai laggando. 11 di ping. 11 di ping e stai laggando. Allora, zio. Mi so detto che ho fatto a 9. Guarda, mi prende attraverso i muri. Attraverso i muri. Attraverso i muri. Vieni qua, papà. Cosa fa? Bello, lei. Mi dai il link delle hack. Mi dai il link delle hack. Bello, lei. Ti chiamo Mario. Vieni quello con le hack. Mario, è il mio amico. Me l'ha data lui le hack? Le vuoi provare? Ah, bastardo. Come stai usando le hack? Sì, ma le hack sto proprio usando le hack. Le aimbot, capito? Le aimbot sto usando. Dai, gioca, va. Io sono ridicolo. Non tu che fai video fake. Ah, io faccio video fake. Tu sei fake, infatti. No, sei proprio fake. Dai, gioca, va. Mamma mia, cioè, mi è pure messa la tenata e non si è riuscita a uscire. Ma io perché non ti volevo killare? Non ti volevo killare. 6 a 2. Vabbè, ma io accetto. 6 a... 6 a... Su a 3 kill. L'ho regalato. Lo sai cosa fanno i moscerini, eh? Muoiono come stai per fare tu. Bravo, belle. Tu hai... Hai meno 10 di pig. Spari 3. Meno 10 di ping. Il mio ping è attualmente 30. E fai piesso quanti ne fai, ricone bastardo? Oh, la fiesta. Cosa fai? Ma guarda, sei solo uccidermi così. Ma sembra una cosa corretta. È troppo bello, carrerosicare. Siamo 10 a 7. Però posso dire che non mi sta insultando un bm, eh? Posso davvero dirlo. Tra l'altro portami rispetto a chi sono più grande di questo. Ah, ti dovrei portare il rispetto. Ah, se sta bene giù, vero? Mi sembra un posto per... Per quelli che si chiamano Burzo Gamer. Stai calma, papà. Non rosicare a papà. Non rosicare. Easy. Easy. Non sai neanche miltare. Easy. Easy. Il contratto per Exit l'hai trovato nelle patatine, vero? Nelle patatine, sì. Proprio come pacco il regalo. E tu sei uscito dal luogo di Pasqua? Beh, tu sei uscito male dalla faccia di tua madre. Ma come fai a mettermi le capanne? Ma... Sì, sei un bot! Sì, sei un bot! Vergognati, sei! Fai veramente schifo, sai! Non ce la faccio, Montebra! Stai male, zio! Fai rifiutare corretto e scarro anche lui, vai, dai! Ma se non mi riesci a battere, non riesci a battere, me! Dove vuoi andare? Sì, ho appena battuto! Mi hai appena battuto! Ma dove vuoi andare? Dai, bat! Sei pronto? Quelli come te li batte in due secondi! Vai, vai, gioca! Sto facendo una cosa importante, mamma! Mamma, sto battendo un bot! Attenzione, la mamma interviene! Interviene la mamma, raga! Vai, vai, let's go! Mamma mia! Come sei entrato negli epipoli? Come sei entrato, vero? Oh, mamma mia! Potresti prenderlo almeno un colpo, eh! Un colpo, dico, non dipendevole! Complimenti, raga! Ah, veramente, fai veramente schifo, c'è, non so cosa puoi dire! Io mi diverto a farmi chillare da sto qua! Io mi diverto a farmi chillare da sto qua! Perché quando mi chilla, gode come un maiale, raga! Adesso voglio proprio vedere la tua reazione, no? Quando muori! Mi sono incastrato, tutto colpo giù! Perché sei scarto! Non so me che ti ho missato! Devi ringraziare che è la prima del giorno, veramente! Giocare in creativa è la prima del giorno! Dai, te che fai? Cosa fai? Cosa fai? Lo sai, devi andare a stupare i cessi! Devi andare! Sono quello! Sono quello! Attraverso le scale! Attraverso le scale, vai, vai! Adesso vai che tua madre ti ha chiamato che è notte, eh! Mi raccomando, papà, dai! Sì, devo andare, ma la prossima volta ti spacco! Sì, la prossima volta mi spacchi, dai! Facciamo così, senti qua! Siccome io amo registrare... Se questo video che ho fatto arriva a 10.000 like, ti scommetto 100 euro! E se farai più kill di me in pubblico, ti regalo 100 euro! Ci stai? Easy, easy! Burzo Gamer! Burzo Gamer! Burzo Gamer 2000! Easy! Fatemi sapere cosa ne pensate di questo Burzo Gamer, raga! Non capisco perché tutto quest'odio! Signori, io vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine! Crisimed, come supportatore, andate a tutti gli abboi! Se mamma mia, che mattaggine! Anche se questo è un po' pazzo, non è matto come noi! Signori, una bella iscrizione e like! Ciao!